L'annuncio poco tempo fa è arrivata la signora Francesca Grigolini a casa mia insieme a Simone Grillos a dirmi di questa cosa che mi ha fatto molto piacere, ma soprattutto oggi l'accoglienza che ho avuto qui da un pubblico straordinario, da amici di sempre e amici nuovi nella mia città con l'assessore che mi ha dato l'anno scorso le chiavi della città insieme al signor sindaco. Insomma tutte cose molto belle che non possono che rendermi felice. Io Sanremo se l'ho fatto bene l'ho fatto non solo per l'esperienza perché avevo una bella canzone, perché Dio mi ha dato la voce, ma perché ho fatto i compiti a casa con grande attenzione, ho studiato, ho preparato la cosa. La fretta fa i figli ciechi, dice un vecchio proverbio ed è abbastanza vero. I giovani di adesso si illudono e vengono illusi da degli schemi promozionali che certo portano grandissimi risultati a qualcuno, ma durano troppo poco perché non sono basati su fondamenta. La Grigolin costruisce case, produce materiali per fare le case, ma non è che il loro materiale sta in piedi per opera divina, prima fanno le fondazioni. Parto col tour il 4 di maggio, toccherò 14 teatri italiani, i più importanti, da Padova alla Sicilia, a Milano, a Torino, Firenze, Roma, Bari e via, Napoli. Per me oggi è un giorno importante perché come è stato detto tutti i sogni oggi si sono realizzati, però ti ringrazio per questo il mio amico e soprattutto il collaboratore Simone perché si è impegnato molto per questa giornata e quindi la dedico a lui. Ti ringrazio Francesca, ma senza il tuo aiuto sarebbe stato impossibile realizzare questo evento, anche perché l'idea in realtà l'altro anno ce l'ha avuta lei, poi io l'ho sviluppata, l'ho organizzata, ma in realtà questo colpo di genio ce l'ha avuto lei. Perché come dice Red è una ragazza incredibile nel lavoro, però nella vita è una persona altrettanto straordinaria in un altro modo. Questo premio è importante perché ci fa entrambi, personalmente questo lo dico, avvicinare e conoscere delle persone in un certo senso importanti. Quando siamo stati a casa di Red Canzian la nostra aspettativa era quella di conoscere una persona speciale e infatti abbiamo conosciuto una persona speciale, quelle poche battute mi hanno dato una carica incredibile. Per esempio un principio fondamentale che ho imparato subito è stato il rispetto per la musica, una cosa che prima non sapevo e quindi devo ringraziarlo. Io sono nato qua, quindi i primi passi li ho mossi qua e qui sicuramente ho avuto un imprinting che mi porto dietro, che è fatto di questa solidità che loro hanno notato, di questo rispetto per le cose. Sono figlio di un uomo che ha lottato tutta la vita per farmi andare avanti, per farci andare avanti, a me e a mia sorella, farci crescere, farci studiare, ma soprattutto che ha sempre aiutato a realizzare i miei sogni. Per cui quando un uomo semplice si danna la vita pur di far felici i figli tu ricevi un insegnamento che è qualcosa di importante e quindi il territorio, il ricordo di mio padre, di queste mie origini che sono sicuramente molto lontane ma molto semplici. Quando tu hai ricevuto questo dai valore a tutto il resto nella vita. Grazie a tutti.